Salve a tutti e benvenuti su Procontro. Oggi, vi racconto 5 strane morti realmente accadute, che vi faranno sentire più vivi che mai, mettetevi comodi, perché si inizia con un evento davvero singolare. L'insolito caso dell'avvocato Vallandigham, un colpo di pistola per la giustizia. Clement Vallandigham, un avvocato americano del XIX secolo, incontrò una fine inaspettata. La ragione? Un errore fatale. Mentre difendeva un sospettato di omicidio in aula, Vallandigham voleva dimostrare un importante punto, ma la situazione si è rivelata tragica. Nel tentativo di mostrare come la vittima avrebbe potuto spararsi accidentalmente, Vallandigham si è sparato. Un finale che nessuno avrebbe previsto. Incredibilmente, il suo tragico errore ha avuto un effetto positivo. Il suo cliente, vedendo la sua dedizione, è stato assolto. La storia di Vallandigham ci ricorda l'importanza del nostro lavoro e la passione che dobbiamo mettere in ogni caso. La tragica scommessa, la morte dell'avvocato Gary Hoy nel tentativo di provare l'indistruttibilità del vetro. Gary Hoy, un avvocato canadese, ha cercato di dimostrare un punto indistruttibile. Avventuroso e audace, era noto per mettere alla prova i limiti. Un giorno, nel suo ufficio al 24esimo piano, ha deciso di dimostrare la resistenza del vetro. Si è gettato contro la finestra, convinto che sarebbe rimasto intatto. Ma invece, il vetro non si è spezzato, ma si è staccato dalla struttura. La caduta ha causato la morte del povero Gary. Una vita persa in un attimo, tutto per dimostrare un punto a parer suo, indistruttibile. La storia incredibile di Frank Hayes, una vittoria oltre la vita al Belmont Park. Inizio, nel lontano 1923, un evento straordinario si verificò al Belmont Park di New York. Frank Hayes, un giovane fantino, si mise in sella per una gara. In quel giorno di sole, l'atmosfera era carica di aspettative. I tifosi erano a corsi in massa, pronti a scommettere sul cavallo preferito. Frank Hayes, nonostante non fosse il favorito, galoppava con determinazione. Il suo cavallo era un outsider, ma entrambi erano decisi a dimostrare il contrario. A metà gara, un dramma silenzioso si consumò. Frank Hayes subì un attacco cardiaco. Ma il suo corpo rimase in sella, in un equilibrio precario. Il cavallo continuò la sua corsa, indomito, sospinto dalla folla e dall'adrenalina della gara. La morte del suo fantino era un segreto che solo lui conosceva. Alla fine, contro ogni aspettativa, il cavallo di Hayes superò la linea del traguardo. Aveva vinto, con un margine sorprendente, a dispetto delle quote di 20 a 1. La storia di Frank Hayes è un tributo alla determinazione e al coraggio. Una vittoria ottenuta in modo tragico, ma mai dimenticata. Un tragico destino, nel 1980, Monica Mayer, sindaco di Betterton, perse la vita in un incidente nelle fogne della città. Monica era nota per il suo impegno ogni presente verso la comunità che amava tanto. Un tragico incidente interruppe il suo servizio. Stava eseguendo un suo solito controllo sui serbatoi delle fogne, un lavoro sporco ma necessario per mantenere la sua città pulita. Ma quella giornata non era come le altre. Monica scivolò, cadendo dentro il serbatoio. 15 piedi di rifiuti umani segnarono il suo destino. Il suo corpo fu ritrovato più tardi, annegato. Un'immagine sconcertante per una donna che dette tutto per la sua comunità. Il coraggioso sacrificio di Jesse Laziar nella ricerca sulla febbre gialla. 1900, nel cuore della rivoluzione medica, Jesse William Laziar, un medico americano dall'incommensurabile coraggio, si trova di fronte a un mistero medico, la febbre gialla, una malattia devastante. Durante la guerra ispano-americana, i soldati morirono più a causa di febbre gialla e malaria che per ferite di battaglia, e l'esercito era determinato a scoprire la causa di queste malattie. Laziar ebbe un'intuizione, sospettò che la febbre gialla fosse trasmessa dalle zanzare. Ma questa teoria richiedeva una prova definitiva. La dimostrazione di Laziar fu drammatica, si fece mordere dalle zanzare infette. Un esperimento fatale ma anche rivelatore. La sua audacia ebbe un prezzo. Laziar contraste la febbre gialla, provandosi faccia a faccia con la malattia che stava cercando di combattere. Ma la sua morte non fu vana. Dimostrò la sua teoria, la febbre gialla si trasmetteva dalle zanzare. Un mistero medico, finalmente risolto. E voi cosa ne pensate di queste 5 morti strane che vi ho raccontato? Sono curioso di sapere qual è secondo voi la più strana. su Pro Contro. Ciao!